ehi! bisbee! vieni con me, devi vederlo! ehi! ma dove mi porti? bizzarro, bizzarro! ma cos'è questo posto? andiamo, presto! che cosa fanno? vedi quel robot? sta perforando celesta! guarda quei tubi! arrivano dai quattro angoli della riserva naturale per dargli l'energia! allora significa che stanno distruggendo la riserva! oh, siete denti! ma cosa succede? smash deve scavare più in fretta per trovare ciò che cerco nel cuore di celesta! ma cosa state combinando? non mi stupisce, non c'è nessuno a lavorare! attenzione! è troppo forte! ho un'idea! se fermiamo le quattro raccolte la sua energia diminuirà! e potremo fermarlo! hai ragione! torniamo a casa, prendo i miei attrezzi e fermeremo questi ladri d'energia! ehi! ma cos'hai? devo essermi ferito un'ala cadendo! non riuscirò a portarti! a meno che... oh! forse so una scorciatoia! avanti adibu! non perdere tempo! vai subito a casa a prendere l'aeroscoot e il tuo walkie tolky! per non perderti dai un'occhiata al tuo radar! in basso c'è il nostro radar! ci serve da mappa per orientarci! la freccia bianca indica me! gli elementi che lampeggiano mostrano dove dobbiamo andare! in alto ci sono i comandi che devi utilizzare per giocare! per esempio... in questo momento vedi come aiutarmi a muovermi! prova! avanti adibu! non perdere tempo! vai subito a casa a prendere l'aeroscoot e il tuo walkie tolky! avanti adibu! non perdere tempo! vai subito a casa a prendere l'aeroscoot e il tuo walkie tolky! lui è plop! il mio cane avventosa! ah! ecco cosa mia! in alto c'è il tasto azione! quando lampeggia possiamo fare qualcosa di speciale! prova! sicuramente ci servirà! sì! il walkie tolky! pronto pronto! adibu! mi senti? ah! ci serve anche l'aeroscoot! troppo forte! grazie al walkie tolky! terremo i contatti con bisbee! e l'aeroscoot una volta avviato ci porterà in capo al mondo! oh! ed ecco il mio aeroscoot! è una macchina miniaturizzata! perfetto! siete pronti per partire per la riserva naturale! ritroviamoci al vulcano! semmai dovessi avere bisogno di aiuto! perché non riesci a proseguire? non esitare! premi il tasto che lampeggia in alto! è il tasto aiuto! non esitare! bisbi bisbi bene bene vi ho fatto una mappa della riserva naturale tenete prendetela e andate subito a fermare il robot della foresta buona fortuna si parte e e e e e e e e e andiamo a catturare quel grosso bidone altrimenti ruberà tutta l'energia della foresta spero che non sia troppo tardi bene, è il momento di fare sport quando un ostacolo ci sbarra la strada premi il tasto salta sai, quello che lampeggia in alto oh, sì, questo ci dà dei punti un trampolino con mosso blu uff, siamo bloccati comunque, dovrebbe bastare gettare questa cassa contro la porta aspetta, provo forza, mi butto forte, vero oh, sì, questo ci dà dei punti forte, vero forte, vero oh, ma guarda a non possiamo passare bisbee c'è una specie di altalena ma non si capisce ci dai una mano cosa ci fai qui sì grazie flop grazie bisbee oh 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 Forte, vero? Forte, vero? Oh, forte, vero? Bisogna rompere il suolo con questa cassa indistruttibile. Avanti, lanciala per terra! Benissimo! Bene, abbiamo trovato il robot! Oh, sta scappando! Buongiorno! 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 Buongiorno!